come fare screenshot col vostro telefono android ci sono due metodi che io conosco il primo è premere il tasto di accensione e volume giù contemporaneamente qua abbiamo la possibilità ad esempio di disegnarci sopra e cancellare posso fare così che ne so tagliarne una parte e poi fare ok per salvarlo oppure c'è un altro metodo ancora più istantaneo ovvero questo mettiamo caso di essere una schermata qualsiasi con tre dita scorro verso il basso più semplice di così con tre così adesso sbagliato l'ho preso troppo in alto così tac screenshot salvato gli screenshot logicamente poi li trovate nell'app galleria o in google foto ciao a tutti l'ho preso 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 l'ho preso